Ciao bambini, come state? Spero bene. Oggi continueremo la nostra alfabeteria. Faremo la lettera D. Ok, D come? Vi faccio vedere. Di come dado, di come delfino, di come dado e di come disegno. La lettera D la faremo sempre come con il nostro pennarello. Oggi sicuramente userò il colore blu. Quindi, prenderemo il nostro pennarello. Il colore blu voglio usare io. Voi potete usare un colore preferito che piaccia poi. Allora, la lettera D. La nostra lettera D come si fa? Prendete un po' di carta bianco, il nostro pennarello col colore preferito. Iniziamo a scrivere la lettera D. Faremo una linea lunga, 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 fino a giù. E poi faremo un altro, così, girando sempre. Quindi, oggi abbiamo la lettera D. D come dado, D come disegno, D come Dalfino. Quindi, usiamo la lettera D come disegno. Se volete, potete fare un bel disegno a piacere, come piace a voi. Va bene, bimbi? Adesso vi leggerò una bella storiella, sempre con il nostro libro. L'alfabeto incandato. Avemo la lettera D come dispetti. Vediamo questi dispetti di questi bambini. Con lo zaino sulle spalle, da quest'anno va da scuola. Lui adora i numerini, le ha il disegno e la parola. Le spedisce letterine al bambino al terzo banco. E riceve cuoricini da compagno che gli sta a fianco. Con i numeri lui conta. Quanti salti fa su letti. Ma una cosa non si conta. Non si contano i dispetti. Va bene, bambini? Quindi per oggi abbiamo finito la nostra lezione con la lettera D. Grazie mille e ci vediamo a presto. Un bacio.